Ciao a tutti e bentornati, io sono Pasquale. Quanto è difficile la vita da libero professionista? Beh, questo devo ammetterlo. Però ci sono anche tantissimi lati positivi. La cosa fondamentale è però quella di non cadere negli stessi errori ma di imparare da quelli che si sono andati a fare. E io ne ho fatti un paio di parecchio importanti, mentre altri invece non erano proprio errori, ma situazioni che mi hanno colto, diciamo così, alla sprovvista. Per questo ho colto l'occasione di realizzare questo video in collaborazione con FiscoZen, servizio al 100% italiano che permette di semplificare la vita a chiunque sia un folle entusiasta quanto me di aprire la partita IVA ed addentrarsi nel mondo dei libri professionisti. Vi lascio un link qui in descrizione da dove potete tranquillamente andare a prenotare una consulenza completamente gratuita per porre le vostre domande o dubbi al team specializzato e altamente competente di FiscoZen. Questi mesi sono stati durissimi ed i mesi a vedere lo saranno secondo me ancora di più. Dopo sei mesi da semplice libri professionista con alle spalle 22 anni del lavoratore dipendente, sto tirando alcune linee, ma parecchie, e li sto anche cercando di capire i pregi e difetti dei due mondi, trovando la mia giusta collocazione. Se vuoi farti beati fatti miei, sapere cosa faccio ora di mestiere, quanto guadagno e che prospettive ho, rimani fino alla fine del video perché ti rendo partecipe di tutto e ti dico anche tre errori principali che ho fatto e che non voglio che tu faccia, se sei un libri professionista o sei, sei in procinto di diventarlo. Il primo errore è quello di andare a casaccio. Nel mondo dei dipendenti è tutto estremamente semplice, o comunque così sembra. Esiste la busta paga, vai a lavorare e un giorno preciso ogni mese ricevi il tuo bonifico con lo stipendio. Ricevi dalle 13 alle 14 mensilità e si tratta di un porto più o meno costante. È tutto estremamente semplice, lineare. Devi solo convincere il datore di lavoro, uno almeno, a farti assumere. Beh, mi sono trovato parecchio spiazzato quando mi sono ritrovato a essere solo con la partita IVA. Il primo mese quanto ho fatturato? Solo 42 euro. Questo dal mio lavoro e in più c'erano i 70 euro da YouTube. Era marzo del 2023. Io da dipendente con esperienza, con 22 anni di esperienza, mi portavo a casa 2700 euro netti in tasca. Essermi approcciato senza una pianificazione ben strutturata mi ha fatto perdere un'enorme quantità di tempo. Considerando che sono un maniaco della organizzazione e della gestione del tempo, aver incontrato tutte queste difficoltà mi ha fatto capire quanto lavoro supplementare dovessi fare su me stesso. Allo stesso tempo, non avere in mente una linea ben definita dell'attività da effettuare, ma andare a prendere un pochino di tutto non mi dava sicuramente, come posso dire, autorevolezza nei confronti dei miei potenziali clienti, per cui bisogna pianificare a dovere. E infatti, i risultati sono cominciati ad arrivare subito nel momento in cui ho messo le cose, diciamo così, a posto. Da quei fantomatici 112 euro di marzo, ad oggi sono all'inciriccati una media di 500-550 euro al mese dal mio solo lavoro, in più c'è anche YouTube che è cresciuto, diciamo, in proporzione molto e le collaborazioni con le aziende che sono in arrivo. E ora mi posso anche permettere di andare a selezionare, secondo i miei parametri, queste aziende. Per cui spero di avere un mini stipendio già a gennaio-febbraio del 2024, che male non è a mio parere. Certo, anni luce distante dal passato, ma il mio interesse è sempre stato quello di passare più tempo con mio figlio e ci sto riuscendo alla grande. E in più, questo è il presente, non il passato. Due, è una gestione approssimativa. Ragazzi, quante scartoffie, firme, procedure e altro, bisogna sempre cercare di tenere in mente una marea di cose. Gli F24, l'IVA, l'IMPS e tante altre cose che mi fanno male la testa solo a pensarci. Si potrebbe gestire tutto da soli? Assolutamente sì. Benvenuti e se vuoi prova ci fai pure, ma non fa per me. Ad esempio, quando ero un dipendente, mi era convenuto in termini fiscali aprire il tutto come ditta individuale, ma una volta che sono rimasto a casa ho dovuto trasformare la mia attività da ditta individuale a semplice libro professionista a regime fiscale ordinario. E infine, a inizio del 2024 passerò sempre come libro professionista, ma a regime forfettario. Cose che mi sono convenute dal punto di vista fiscale, ma che non avrei mai saputo individuare da solo. Troppo, margine di errore. E poi ci sono gli esperti, i commercialisti e i servizi completamente dedicati, come lo sponsor del video di oggi, FiscoZen. Con FiscoZen, infatti, potete trovare il supporto di un commercialista dedicato che vi guiderà dai primi passi, all'apertura della partita IVA, fino alla gestione delle vostre fatture elettroniche, grazie anche alla presenza di una piattaforma user-friendly che vi permetterà di avere sempre sott'occhio la vostra situazione. Dalla dashboard potrete monitorare le tasse da pagare in tempo reale e avrete sempre a portata di mano le scadenze dei vostri adempimenti. Sia l'apertura della partita IVA che la dichiarazione dei redditi sono inclusi nel costo del servizio. Insomma, mano nella mano, nel percorso dall'inizio alla fine. Se volete prenotare una consulenza completamente gratuita potete utilizzare il link in descrizione, così da riservarvi 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Mi raccomando, non gestite le cose in maniera approssimativa. Il mio ultimo consiglio è di non essere schiavi. Parliamoci chiaro. I clienti pagano la nostra pappa, le nostre bollette, il nostro affitto, il nostro mutuo. Pensiamo di essere loro schiavi. E seppur sia vero che quando sei indipendente non puoi mandarli a quel paese, comunque sei in una situazione di non dipendere direttamente dalle incertezze di un tuo comportamento emotivo col cliente. E per questo, in ogni mia comunicazione, email, telefonato, nelle quotazioni, a mio parere, riversavo tutte le mie incertezze o tutte le mie insicurezze dovute alla mia inesperienza in campo del libero professionismo. Per cui, ad esempio, assecondare le richieste del cliente solo perché il suo concorrente lo fa, o peggio, perché così fanno tutti, ma senza un fondo di necessità oppure farsi pagare invisibilità, fortunatamente errore mai fatto da parte mia, oppure accettare qualsiasi cliente o quasi per la paura di non avere abbastanza clienti, magari per arrotondare o fare tutti i lavori che ci passano nella testa pur di fatturare, magari facendo scadere la qualità del lavoro e rovinandosi a questo punto la reputazione sulla piazza. Tutti abbiamo un ideale di cliente o un cliente ideale, ma bisogna pensare alla nostra attività, alla nostra immagine, pensando al futuro e non al presente. Bisogna comunque saper dire di no. Per un motivo o per l'altro, imparando a dire no, ho aumentato la qualità dei clienti che lavoravano con me e spero di continuare a farlo perché potrei sempre sbagliare a sceglierli. Ma abbiamo parlato di me fino ad ora, parliamo invece delle tue esperienze in merito. Errori? Consigli anche per me, che comunque sono nuovo in questo campo. Ho tanta voglia di condividere esperienze insieme a voi e di impararle da voi e se avete incontrato altre problematiche, per favore, condividetele pure qui sotto. Ti ricordo che se invece sei nuovo in questo mondo o sei in procinto di diventare un libero professionista, puoi prenotare una consulenza gratuita e, usando il link in descrizione, avrai anche 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Se questo video è stato di tuo gradimento, come sempre, ti ricordo di lasciare un bel pollice in su perché così facendo mi permetti ancora di più di far diventare questa mia passione nell'attività che mi sostiene. Se poi sei nuovo su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche e per il resto ti auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!